Come fare gli ordini su BitGet direttamente noi? Me l'avete chiesto in tanti, molti di voi si stanno appassionando al trading, non soltanto al copy trading, quindi vi piace mettere le mani in pasto voi e non soltanto copiare i trader, quindi oggi vediamo come fare gli ordini sia nel mercato spot sia nei future, come impostare un ordine limite, un ordine al mercato. Quindi ci fondiamo subito sul mio computer, vi ricordo che BitGet è la piattaforma che io utilizzo per fare copy trading sulle cripto, in descrizione trovate tutti i link ai miei video, con gli aggiornamenti, quanto sto guadagnando, tutte le strategie che mi hanno permesso di guadagnare, tutto quello che ho imparato dagli errori sul copy trading su BitGet, quella volta che ho perso 2500 dollari, è tutto nei video, andatevele a vedere come ho recuperato questi soldi, come settare il trader, come impostare diciamo una strategia per non perdere soldi, come evitare errori, trovate tutti i link in descrizione per il copy trading, questa modalità di guadagno molto interessante, completamente passiva, quindi impostando bene, settando bene il trader possiamo fare dei guadagni senza fare niente, andatevi a vedere i video per documentarvi e poi c'è in descrizione anche il link per iscriversi a BitGet con uno sconto del 15% sulle fee, ogni broker BitGet è uno dei migliori, è una piattaforma sana, trasparente, molto in salute, dove si fa trading di crypto e anche copy trading, ogni piattaforma ovviamente ha delle commissioni quando si aprono delle operazioni, bene se utilizzate il mio link in descrizione avete uno sconto del 15% a vita, pagherete sempre di meno, quindi utilizzate il mio link e se fate praticamente l'iscrizione, il primo deposito entro il 30 novembre, poi c'è ancora una settimana abbondante, potete soffrire dell'offerta e ricevere il 10% indietro di quello che depositate fino a 1000 dollari, quindi se mettete 1000 dollari il 7 dicembre, 7 giorni dopo allo scadere della promozione, quindi 7 giorni dopo il 30 novembre avete il 10% indietro e quindi nel caso di 1000 dollari fino a 100 euro o dollari gratis da poter utilizzare per fare copy trading o trading su BitGet, ok? Quindi tutti i link sono in descrizione, iscrivetevi a BitGet utilizzando il mio link, però prima informatevi, guardate anche i miei video e questi non sono consigli finanziari, ovviamente io mi diverto qui su YouTube a condividere la mia esperienza, ma ragazzi ci siamo fatti anche male, perdere 2500 euro in un'ora, come ho parlato nel video, non è piacevole, ok? Ok sì, adesso sto recuperando, quasi recuperato, iscrivetevi a questo canale perché arriveranno altri video, ho cambiato il trader che sto copiando e vi farò vedere gli aggiornamenti, però i soldi si perdono e non è bello, quindi prima di fare tutto quello, prima di mettere diciamo i soldi, mettere mano al vostro portafoglio, documentatevi bene, io non sono un consulente finanziario, assolutamente si possono perdere soldi e non sono responsabile, sto solo condividendo la mia esperienza, ve lo dico prima, perché ci si fa male. Occhio, 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 quindi adesso vediamo, per chi vuole fare trading, operazioni, è molto semplice, sono sul sito di BitGet, ok? Praticamente abbiamo sia, se noi andiamo nel nostro asset, ok? Abbiamo vari conti, abbiamo sia il conto spot che il conto future, ok? Quello più importante diciamo, il conto spot e il conto future. Allora, noi possiamo fare anche trading spot, che vuol dire, cioè fare trading sulle crypto senza leva, ora detta in maniera semplice, tra l'altro su BitGet ci sono zero commissioni per fare spot trading, ok? Ovviamente dobbiamo avere dei soldi sul conto spot e non sul future. Andatevi a vedere il mio tutorial su BitGet, ve lo metto nelle schede, me lo trovate anche in descrizione, su come mettere i soldi su praticamente BitGet. Ho fatto anche il tutorial come comprare da un exchange esterno, trovate tutti i link in descrizione. Quindi, dopo che avete messo i soldini, ovviamente potete impostare, no? Se andiamo sul deposito, io posso impostare dove farli arrivare. Però mettiamo che mi servono i future, ce li ho sul conto spot, ovviamente posso fare trasferisci in maniera gratuita, da spot a USDT o viceversa, ok? Quindi, se facciamo spot trading, ovvero compriamo le crypto senza leva, andiamo, quindi dopo aver messo i soldi nel conto spot, in descrizione ci sono i tutorial per creare l'account su BitGet, come funziona. C'è il tutorial, il primo video che ho fatto è proprio il tutorial sulla piattaforma, c'è il tutorial su come mettere i soldi, quindi come acquistare da un exchange esterno, che è il modo più semplice, poi trasferirli su BitGet. Quindi, se poi vogliamo acquistare crypto e fare trading senza leva, tranquilli, tranquilli, pensiamo che Bitcoin salirà o scenderà. Mettiamo i soldi sul conto spot, ok? Li trasferiamo, quindi dobbiamo avere soldi sul conto spot. Andiamo su spot qui, poi spot trading, e praticamente possiamo acquistare in maniera molto semplice, non dobbiamo impostare nessuna leva, si tratta solo di mettere il prezzo. E ovviamente qui spot, spot trading, ve l'ho fatto vedere, qui avete tutto quello che potete comprare, la lista di tutte le crypto che potete comprare. Io adesso sono su Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ci sono tutte, quindi se volessi acquistare Bitcoin senza leva, scendo giù, vado su importo, vedete, faccio acquista o posso andare short. Ovviamente possiamo fare un ordine limite, quindi, che vuol dire, qui possiamo selezionare o ordine limite o ordine di mercato. Questo che vuol dire? Vuol dire che ordine limite noi vogliamo comprare solo quando, secondo le nostre ricerche, Bitcoin raggiunge un determinato prezzo. Quindi pensiamo che Bitcoin, prima che abbia, diciamo, un grosso balzo, deve toccare il prezzo di 16.000. Quindi gli diciamo acquista lungo, ordine limite, ok, al prezzo, e qui possiamo modificare il prezzo, no? Possiamo dirgli, che ne so, 16.000. Compra 16.000 e qui impostiamo l'importo, ok, in base, possiamo mettere tutto quello che abbiamo sul conto spot. In questo caso io ho 496 USDT sul conto spot e praticamente lui lo comprerà quando il prezzo arriverà a 16.000. Stessa cosa per lo short, impostiamo il prezzo, ok, che vogliamo acquistare nel momento in cui raggiunge quel prezzo, vogliamo shortare, mettiamo l'importo 0,0002, ok, abbiamo 3 USDT oppure 45, 72 USDT. E clicchiamo su vendi e andiamo short, invece, l'ordine di mercato praticamente acquistiamo o shortiamo praticamente all'istante. Scegliamo il prezzo, 0,0045, cioè l'importo che vogliamo mettere qui sul da investire e compriamo subito al prezzo in questo momento. Questo per quanto riguarda gli ordini spot, ovvero acquisto o vado lungo o vado short senza leva. Per usare la leva dobbiamo andare nel future, conto future, quindi dobbiamo avere soldi nel conto future, se ce ne abbiamo solo sul conto spot dobbiamo trasferirli, come vi ho fatto vedere prima, da spot a future. Nel momento in cui siamo sui future, possiamo praticamente cliccare, ovviamente vedete, possiamo scegliere la coppia. Io ho scelto sempre bitcoin, intanto vedete le mie previsioni, il triangolo che si è rotto ed è sceso e ho fatto veramente un bel guadagno. Andiamo a vedere su asset, prima di vedere gli ordini, perché è molto interessante anche fare operazioni, quando si vengono a crearsi delle circostanze, voi pensate, potete andare direttamente voi ad operare senza passare dal trader, quindi risparmiate anche quel 10%. Se io vado su asset, poi vado qui su ordini future, mi fa vedere gli ultimi, non so, vediamo, cronologia ordini, ho fatto questi 113 dollari, vabbè qui 39 centesimi, 35 centesimi, 2 dollari, 8 dollari. Comunque, queste sono operazioni che ho fatto io senza usare, anche così per esercitarmi, vedete gli importi non sono chissà che, però qui 264 USDT, per esercitarmi e fare un po' di trading. Quindi, per fare trading a leva andiamo su future, poi su future, vedete, USDT, possiamo scegliere, diciamo, le monete che ci permette, ce ne sono un bel po'. Noi, vabbè, vi faccio vedere con BNB, no, questo, voglio andare, future USDT, ho scelto BTC, ok, qui possiamo cambiare, vedete c'è il triangolino, ci sono tutte le monetine, ok, Bitcoin, eravamo qui. Qui possiamo andare sempre a ordine limite, a ordine mercato, possiamo mettere il take profit e lo stop loss, quindi mettiamo il prezzo che vogliamo raggiungere. E quindi al raggiungimento di quel prezzo si chiude la posizione in automatico e anche sia per quanto riguarda la presa di profitto e sia lo stop loss. Se mi tocca quel prezzo, io vuol dire che ho sbagliato la previsione, mi chiude così non vado a perdere chissà quanto, posso limitare le mie perdite con lo stop loss, ok? Quindi, anche qui, ordine limite, penso che voglio comprare solo quando arriva ad un determinato prezzo. Mercato, compro subito, ok, imposto il budget, metto il take profit e lo stop loss e poi c'è anche il trailing stop, ovvero, diciamo, impostiamo l'ordine in modo che se il prezzo sale nella direzione, se il prezzo va nella direzione in cui noi vogliamo, diciamo che anche lo stop loss sale, in modo che poi andiamo praticamente sempre in profitto. Questa cosa si può fare anche manualmente, nel momento in cui vediamo che abbiamo azzeccato, tra virgolette, l'operazione, possiamo alzare lo stop loss in modo che se, che quell'operazione va sempre in profitto. Quindi qui andremo a impostare il tasso di richiamo, cioè fino al 10%, vuol dire che ci sarà una distanza del 10% tra il prezzo del 10, che è il massimo, oppure possiamo fare anche meno. Nel momento in cui il prezzo sale, quando sale della percettuale che noi abbiamo impostato, praticamente, sale anche lo stop loss in modo da poi avere un'operazione che va in profitto automaticamente. Se invece sbagliamo e l'operazione va nel senso opposto, si chiude tutta l'operazione. Questo è quanto. A mercato, ovviamente, si compra subito. Limite, sono pieno con lo spazio sul computer, scusate. Limite, invece, impostiamo un prezzo e vogliamo comprare o shortare solo in quel momento, cioè solo quando raggiunge quel prezzo. E quindi possiamo scegliere se andare lunghi o short cliccando qui. Questo, per quanto riguarda, diciamo, BitGet, fare ordini su BitGet in maniera attiva, senza fare copy trading, vi ricordo in descrizione ci sono tutti i link ai miei video se volete approfondire il copy trading e c'è anche il link per iscrivervi a BitGet e avere il 15% di sconto sulle fee a vita, quindi tutti i costi vivi per fare trading avete uno sconto a vita del 15% e c'è anche l'offerta che se vi iscrivete entro il 30 novembre, quindi entro pochi giorni e poi scade, 7-8 giorni, se vi iscrivete entro il 30 novembre avete il 10% indietro del primo deposito, oltre ad avere lo sconto a vita sulle fee del 15%. Quindi tutti i link sono in descrizione, ci sono i miei tutorial se volete approfondire, fatemi sapere se avete altre domande, scrivetemi nei commenti e se questi video vi sono utili ovviamente iscrivetevi al canale e non perdetevi assolutamente i prossimi video dove vi andrò ad aggiornare sulla mia attività di copy trading su BitGet. Quindi iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!